Il 14 aprile, via Massimiano 6, siamo ancora con i ragazzi della Royal College of Art di Londra e a fianco a me ci sono delle lampade che ricordano un po' uno stile naturale fatte esclusivamente con pneumatici di macchine e biciclette. Alle mie spalle potete vedere delle sedie fatte tutte con materiali di scarto del falegname che peraltro i ragazzi vi insegneranno anche a costruirle se venite qua e invece lì potreste vedere una lampada e due tavolini colorati ottenuti esclusivamente da carta riciclata.